Eugenia Carfora, preside dell'Istituto Morano di Caivano, donna forte, combattiva, qualcuno la definita preside coraggio, lei come si presenterebbe? Come una persona, le persone poi si formano, vivono in alcune realtà, io mi reputo una persona normalissima, forse sono gli altri che mi definiscono coraggiosa, ognuno di noi ce l'ha il proprio coraggio e a seconda poi della propria indole, della propria capacità di essere attivi nella città, diventa coraggiosa, o meno coraggiosa, ma sicuramente di contributo alla società. Partiamo dalla terra dove lei vive e dove lei lavora, Caivano. Caivano, Parco Verde, terra dei fuochi, terra di abusi e di violenze, tutti ricordano il caso della piccola Fortuna, la bimba che a soli sei anni fu scaraventata dal balcone del suo palazzo per essersi ribellata all'ennesimo abuso su di lei. Parco Verde, siamo al nord di Napoli, Parco Verde non per la natura, verde per i palazzoni che furono costruiti subito dopo il terremoto del 1980. È un quartiere che è stato definito la nuova scampia, tra le piazze di spaccio più grandi d'Italia. In un posto così, forse la scuola rappresenta l'unica possibilità di salvezza per i ragazzi di Parco Verde. Io ho scelto quella realtà. Non vivo a Caivano, ma ho scelto di dedicare gli anni della mia vita ai ragazzi. Quando vogli andare in quel luogo, sapevo che c'era un contesto molto forte, pesante, ma l'idea di andare a lavorare in una scuola lì mi dava una carica incredibile, perché intanto in precedenza mi ero occupata della possibilità di aiutare le strutture a lavorare per la dispersione scolastica. Ma io mi volevo vedere proiettata al fare. Nuova scampia. Io dico che è un luogo, è un luogo dove si consuma di tutto. E anche in un luogo, anche il più bello, New York, altri paesi del mondo, possono essere eccezionali e possono in silenzio vedere cose incredibili. Io ho scelto quella realtà perché dove ci sono i bambini bisogna avere il coraggio e la forza di aiutare gli altri. Aiutare l'altro significa rendere umano sempre di più la persona. E quindi per me è stata una, non una sfida, qualcosa di magico. Sono arrivata e il tutto è apparso incredibilmente abbandonato. Ma io subito ci ho visto qualcosa di più. Addirittura durante i lavori avete ritrovato una pistola sotterrata in un'aiuola di fronte alla scuola. Una parte della scuola era stata anche occupata abusivamente. Documenti ammassati o meglio buttati per terra che lei faticosamente ha dovuto prendere e ricostruire anche, diciamo, un iter burocratico. Ma che cosa, con coraggio, ma che cosa l'ha spinta soprattutto a fare tutto questo? Quando scelsi di andare a Caivano, in una scuola del Parco Verde, io fui individuata tra le vincitrici del concorso del primo ciclo, dove c'era una scuola dell'infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado, ex scuola media. È lì che ho dedicato energie incredibili perché le scuole erano bellissime, le strutture straordinarie e l'abbandono che era incredibile. Per cui io non ho costruito la scuola, io ho riordinato la scuola e in questo riordino io trovai la pistola. Bossoli, ho trovato tanta gente che veniva lì a depositare l'immondizia, telecamere e quello che mi faceva più male era l'indifferenza. Tutto si svolgeva in un silenzio incredibile, per cui non come preste, come donna, come persona. Il coraggio non è che lo avevo, mi è venuto veramente in modo naturale e l'ho espletato attraverso tante azioni e i veri coraggiosi sono stati ragazzi, non li ho mai sentiti nemici, ma semplicemente curiosi, anche se non erano strutturati per frequentare la scuola. Ho trovato indifferenza, indifferenza rispetto al luogo. Successivamente ho fatto in modo che quella scuola diventasse luogo di eccellenza. Avevo idea di voler seguire ragazze dagli 11 ai 15 anni, dove i ragazzi possono perdersi. Sai, quella scarpa marcata, non essendo strutturati. Quei genitori con tantissimi problemi che non potevano supportare la crescita dei figli. Quelle ragazze già col collo avvolto dalle manine di tanti figli già piccolissime. Ecco, io volevo dedicare tantissimo impegno a quel tipo di segmento scolastico. Quando uno fa, non è che sia proprio tranquilla in un luogo del genere. E allora hanno fatto di tutto, quel metodo andava battuto e chiuso. Hanno soppresso quella scuola di primo ciclo, dividendo in segmenti, l'ho raccontato più volte, e poi per non far sentire che mi avevo cacciata. Mi dicevano che dovevo andare in questo istituto superiore dove tutto era perfetto e dove mancavano gli spazi. Vado lì e tutto ricomincia. Mio marito, il primo, mi ha accompagnato tre volte. La seconda volta che andai in quest'altra scuola mi diceva, ma tu che cosa hai fatto di male per meritarti di andare sempre in queste scuole sgarrupate? Dico, no, c'è il signore che dice che c'è qualcosa da fare. Veramente mi venne naturale dirlo. E ho ricominciato e lì altrettanto degrado, immondizia e poi ho dovuto dedicare la maggioranza delle mie ore al riordino. Nel fare tutto questo gli altri ti dicono che sei una preside coraggiosa. Io dico che sono semplicemente una persona al servizio della comunità. Riordino anche mentale perché esiste un regolamento in questa scuola dove lei è preside adesso che ha creato proprio lei. La sua giornata parte la mattina molto presto con il suono della campanella. Lei però lì comincia il suo giro di ricognizione. Deve accertarsi che tutti i ragazzi siano in classe ed esce fin fuori le strade a chiamare i ritardatari o quelli che magari non hanno voglia di entrare. va a prenderli nelle strade, nei bar, lì dove si trovano. Questo famoso regolamento, no? Perché lei al di là dello studio, quello che sta cercando di dare anche a questi ragazzi è trasferire proprio l'idea di come sia importante anche eseguire le regole, no? L'ordine di cui lei tanto parla. Che regolamento è? I ragazzi l'hanno imparato a memoria, pare, no? Diciamo che con la scuola superiore sono riuscita a determinare una curiosità maggiore. Quando era il primo ciclo il regolamento veniva infranto sempre, eppure c'era. Ma più che regolamento è semplicemente un insieme di ordini e di convenienza. Tipo? Ci faccia degli esempi. Non offendere il compagno, non offendere con parolacce il professore. Consegnare il cellulare ogni mattina e poi lo riprendi quando vai via. E lo fanno? Quelli che non lo fanno vengono poi sorpresi e poi c'è tutto il procedimento del processo che facciamo in classe e anche fino al provvedimento disciplinare. Ma quello che ho trovato imbarazzante e anche straordinario, il capitolo di storia è poco accattivante. Quel regolamento va imparato perché va a determinare io cosa faccio in classe e l'altro che cosa fa per me se io non rispetto la regola. Quindi è tutto l'impalcatura del piano dell'offerta affermativa che è regola. I ragazzi la vedono secondo lei più come un'alleata o come un nemico? Io non mi faccio queste domande. Io li guardo e ci sono delle volte che si ribellano spesso, ma la seconda volta mi guardano e dico non lo faccio più. E quindi non credo che i ragazzi abbiano una persona che non li aiuti, è una persona che vuole aiutare la loro crescita. Per cui non mi pongo queste domande. Io so che devo fare qualcosa per loro. Un giorno capiranno. L'istituto Morano è un istituto tecnico e ha classi di agraria, meccanica e anche alberghiero. Ricordiamo che siamo a Caivano, una zona, una terra difficile dove c'è anche un altissimo tasso di dispersione scolastica. Parliamo di ragazzi adolescenti che magari hanno già pianto la morte di amici che sono andati a finire nella rete della criminalità. Per tanti magari è più comodo, più semplice fare da palo ad uno spacciatore piuttosto che invece intraprendere una vita di studio e di lavoro. Quanti studenti ci sono al Morano e quanti completano il ciclo di studi? Io sono arrivata al Morano nel 2013. Contai come primi iscritti 171 studenti. Il ciclo lo devi valutare alla fine, cioè dopo i cinque anni, sono arrivati quest'anno nel 2017, 18 a giugno, ben 89 studenti. Ciò significa che ne ho perso il 50%. C'è una dispersione altissima. All'inizio partono, poi li perdi per strada. Ecco, la dispersione scolastica dipende in quel luogo da ciò che gli altri non vedono. E io credo che lì bisogna fare una scelta di fondo ed è quella di vedere tutto ciò che è possibile che intraccia la vita dei ragazzi. Lei ha detto, qui ci vorrebbero i professori migliori d'Italia, i più motivati, e invece spesso arrivano persone che non riescono a reggere questo ambiente e non vedono l'ora di andarsene. in realtà difficili dove l'anarchia è imperante, dove il disagio non è quel disagio dovuto alla non voglia di andare a scuola, dove il bambino è stato concepito in una condizione già di non amore. Tutto questo viene assorbito dal ragazzo e lui reagisce con delle modalità che l'altro chiama disadattato. No, quello è un ragazzo che non ha mai avuto il piacere o quella carezza che lo potesse portare avanti e potesse far vedere nella scuola il luogo creativo della sua mente. Ecco, in tutto questo ti arriva l'insegnante in un luogo come quello, dove casomai è venuto lì perché a pochi punti per mettersi nel circuito della scuola. C'è il professore che in questo momento sta cercando di avere due lavori, quello della libera professione e quello del pedagogista, e il ragazzo già disagiato non si può permettere di attendere ancora. Quando ho detto quella cosa lì, cioè di avere i professori migliori, volevo intendere i professori che abbiano una cultura meravigliosa e straordinaria, capace di rimodularla e di metterla al servizio di un disagio da gestire, da leggere, perché il ragazzo non può essere mortificato per la seconda volta. In questa sua avventura lei si è sentita più sola a combattere questa battaglia o più sostenuta? Lavorare nel parco verde significa avere delle motivazioni forti e profonde. Lavorare in una città dove tutto sembra andare così tranquillamente avanti non è la stessa cosa. Lì per risolvere una questione tu ci metti qualche giorno in più, al parco verde qualche anno in più. la solitudine chi non ce l'ha? Rispetto a che cosa? Io sola veramente non mi sono mai sentita, perché tu quando vai in una scuola e tieni un bambino che ti guarda, e uno che ti abbassa gli occhi, e un altro che ti cerca, tu solo non sei. E se anche tu fai finta di niente, sei più felice. Nel momento in cui tu cominci a vedere cose che non vanno, devi fare una scelta. E in quel momento devi essere pronta a soffrire. E io sono pronta. Quindi quella solitudine molte volte l'ho sentita, la sento ancora, tra i colletti bianchi, tra quelli che non immaginano che la scuola è veramente l'agenzia educativa per eccellenza della nostra nuova società. Prima c'era la famiglia, sociologicamente, e la famiglia e i ragazzi ormai vivono tra la scuola, il telefonino, molte volte la strada e poco poco in famiglia. Ecco che la scuola diventa quella mediazione, quella forza incredibile della società che deve superare questo momento del non sentimento. E invece secondo lei i ragazzi di oggi la scuola come la vedono? Oggi a scuola vengono fuori tutte quelle che sono le ansie, le solitudini. Ma riconoscono secondo lei a Caevano e in particolare la scuola come una possibilità di salvezza per loro? Lei dalla sua esperienza che cosa ha capito? Io difficilmente ho visto all'inizio che i ragazzi venivano contenti a scuola. Io li vedo tristi. Poi nel mio istituto, io dico nella mia oasi, cerco di stimolarli, sensibilizzarli e ho visto tanti sorrisi. E quei sorrisi sono per me la mia forza. E con i genitori invece che rapporti ha con i genitori di questi ragazzi? I genitori sono i genitori dei miei ragazzi e a modo mio li voglio bene come i miei ragazzi. Loro me li affidano. Io con loro devo cercare un'alleanza. Molte volte è complicato perché io vedo che loro avrebbero bisogno della mia carezza, del mio ascolto molto di più. Loro si trovano ad affrontare delle cose abbastanza dure. Io ho a che fare con tanti genitori che non hanno il lavoro, tanti genitori con delle storie incredibili, tanti genitori o monogenitori che hanno i mariti, anche le mogli in carcere, sia donne che uomini. E ho tanti genitori, delle belle persone, che non hanno particolari problemi. Ma sai, nel vivere lì la contaminazione è forte e tu devi essere brava, e non lo so se lo sono, a far comprendere loro che la scuola potrà salvare i loro figli. E questo è un pochino più complicato. Lei addirittura va anche nelle case, è andata anche a svegliare i suoi studenti, quelli che magari preferivano rimanere a dormire piuttosto che entrare a scuola. Quindi immagino che comunque anche in questo, in questo che è un atto quasi intimo, immagino che abbia avuto comunque la riconoscenza di tante famiglie e di tanti ragazzi. Avere una bella scuola, ho detto più volte, e non avere i ragazzi a scuola. Suona la campanella e molti ti mancano. E quel ragazzo che non viene nel mentre tu lo segnali, poi vediamo la procura, i sociali, i servizi sociali, quando arrivano e come arrivano, fu un momento di disperazione qualche anno fa. Mi ricordo all'inizio nel 2007, era il mese di dicembre. Ero disperata quella mattina, i professori non vedevano l'ora di andare via, perché non c'erano i ragazzi. Io scesi per strada, io camminavo, pensavo cosa faccio. Fu un momento di una cosa istintiva nel vedere una delle mie alunne al balcone che mi guardava. Scendi. E allora queste mamme che si affacciavano. E quello che mi rimarrà sempre nel cuore? Una mamma. Vieni sopra, non si vuole svegliare. Mi fece entrare nella camera da letto. E in quel letto non c'erano due ragazze, c'erano tre ragazze. Chi alla scuola elementare doveva andare, chi alla scuola media. L'altro piccolino disse ma che ci fate qua? E a me piacque l'idea che la mamma voleva aiuto. Quindi quell'intimità io l'ho infranta, ma è stato un momento magico. E quindi non provo soggiozione, né loro mi hanno mai chiusa la porta. Certamente quando a volte me l'hanno chiusa, non in modo fisico ma simbolico, perché loro non ce la fanno. Ecco perché il coraggio se uno ce l'ha lo deve tirare fuori e donarlo a questi ragazzi. Qual è il suo più grande desiderio per i suoi ragazzi? Di padroneggiare il loro pensiero. Il pensiero va accompagnato. Insegnare a loro a pensare e questo pensare deve fare in modo che quella cittadina un giorno deve e può diventare la cittadina d'Italia. Che cos'è che manca secondo lei alla scuola oggi? Come sistema, come strumenti, come modalità proprio di insegnamento? Un po' di educazione ai sentimenti. Ci sono tantissimi ragazzi, anche giovanissimi, in lista d'attesa per una cattedra, per avere un posto da docente. Secondo lei un consiglio, al di là dello studio, al di là delle regole, al di là della preparazione, che cosa deve avere un professore davvero per riuscire a creare un vero rapporto con il proprio alunno? Io dico che chi vuole immaginare di realizzarsi come professore deve prima di tutto fare i conti con se stesso, con il proprio cuore e avere un grande cuore e una lucidità mentale straordinaria. Se non è motivato ad aiutare i ragazzi in questo processo, se lo fa perché non ha un posto di lavoro, la figura del professore non è l'impiegato dell'ufficio postale dove mettere un timpro, non è una pratica amministrativa. La scuola è un'impresa sociale, allora tu ci devi andare se ti senti di dare questo contributo o altrimenti il ragazzo comprende che tu ci vai solo lì per dire ho fatto 18 ore e me ne vado a casa. L'Istituto Morano comunque adesso è strutturato, lo dicevamo prima, come istituto tecnico, classi di agraria, meccanica, alberghiero. Lei ha proprio rivoluzionato questa scuola. Qual è il suo più grande fiore all'occhiello di questa carriera nell'Istituto Morano? Non c'è angolino della mia scuola che non conosco e mi dà una soddisfazione enorme l'idea che ho dato ai miei ragazzi. Lei venga qualche giorno e vede che io sono fuori ai cancelli, loro corrono e faccio sentire a disagio chi è arrivato con un minuto di ritardo. Il fiore all'occhiello? Non c'è un indirizzo fiore all'occhiello. C'è la possibilità che se vieni a scuola impari e avrai sicuramente un futuro. Allora noi le auguriamo davvero che il futuro dell'Istituto, il futuro di tutti i ragazzi che lei abbraccia e accoglie come una mamma più che come una preside possa essere sempre migliore, possa splendere sempre di più. Grazie preside non solo per essere stata qui a raccontarci la sua esperienza, a portarci la sua testimonianza, ma grazie davvero per il lavoro che fa con i tanti ragazzi. Grazie mille. Grazie a lei.